Allora, buongiorno ragazzi In questo video voglio farvi vedere un'ulteriore applicazione da scaricare sul vostro pc e vi servirà per registrare dei video oppure fare screenshot Tutto questo non ha un limite di tempo ma l'unico limite impostato da questa applicazione è lo spazio di archiviazione dei video che è di circa 4 GB Ok, allora per primo passo bisogna andare su Google e cercare Ice Cream Screen Recorder Una volta cercato andiamo sul primo link e fate Freedom Lord Naturalmente c'è anche una versione Pro che include diverse cose che però non sono essenziali per registrare dei semplici video e una volta scaricato lo portate sul desktop e vi apparirà questa interfaccia Screen Recorder Setup Voi fate il setup quindi l'installazione completa scegliete la lingua e una volta installato completamente sul pc vi appariranno queste due cioè l'applicazione si dividerà in due parti questa parte qui che serve per la registrazione dei video e questa parte qui serve invece per gli screenshot e ora vi faccio vedere cosa si può fare allora qui possiamo vedere che si può attivare la webcam poi l'audio del desktop e il microfono inoltre si può anche disegnare sullo schermo in questo modo io ho già impostato dei quadrati che si possono disegnare quadrati, cerchi e cose di ogni tipo veramente cioè si può fare di tutto ok? cioè si possono fare una miriade di cose potete disegnare qualsiasi cosa voi vogliate dopo aver disegnato si può anche mettere in pausa e finire il video poi nelle impostazioni ci sono diversi settaggi e ve lo potete settare come volete ad esempio io con F8 concludo la registrazione e voi potete fare come vi torna meglio e niente quindi spero che vi sia stato utile e ci vediamo ad un prossimo video